ben ritrovati grazie per essere con noi siamo tornati in diretta qui su finanza now e dedichiamo questo momento del pomeriggio per un approfondimento sul forex quindi sull'andamento delle principali valute mondiali per farlo come sempre ci colleghiamo con saverio berlinzani analista active trades buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti grazie grazie per essere con noi saverio ti lascio subito la parola per capire l'andamento insomma del forex questa settimana e quali sono i principali eventi market mover per le valute ma si allora cominciamo a dire che non è cambiato nulla dalla settimana scorsa nel senso che abbiamo una discrasia tra le parole dei banchieri centrali e della federal reserve e i dati macroeconomici cioè da un lato abbiamo sostanzialmente i dati macro che almeno all'interno del mercato del lavoro hanno segnalato una breccia insomma in quella che era la crescita persistente dell'economia statunitense e i dati sono peggiorati sensibilmente parlo dei jobs openings ma anche dei jobless claims degli adp dei non far payrolls quindi il mercato del lavoro sta cominciando a segnalare delle crepe all'interno della struttura degli stati uniti e questo però viene totalmente ignorato dai banchieri centrali perché a cominciare da cascari presidente della fed minneapolis o barkin lo stesso williams della fed di new york hanno tutti dichiarato che l'inflazione ancora un pericolo pertanto non ci si deve aspettare è assolutamente un taglio dei tassi all'interno del primo secondo secondo terzo trimestre ma addirittura scaliamo probabilmente al quarto e qualcuno dice come ha detto ieri bostic sempre della fed alimentato poi dal suo vice presidente bar che non ci saranno addirittura tagli dei costi del denaro nel 2024 questo ha sorpreso i mercati ha fatto tornare un po di avversione a rischio latente perché poi se andiamo a vedere l'indice vix e l'indice fir e grid rimangono abbondantemente riscone addirittura l'indice vix è sceso sotto 12 cioè un livello 11 85 che possiamo considerare di grandissimo appetito a rischio riscone come se non ci fossero domani e questo però chiaramente è in contraddizione con quello che stiamo vedendo quindi i banchieri centrali americani o fanno doppio gioco oppure cercano di mantenere fino all'ultimo un atteggiamento omochisce poi improvvisamente quando i dati cascheranno in mano perché non soltanto i dati sul mercato del lavoro stanno peggiorando dovranno poi adeguarsi in fretta e velocemente quello che stiamo notando è che anche sugli ISM del settore del manifatturiero dei servizi del mese scorso abbiamo visto un calo sotto la soglia di 50 punti sappiamo che la dei 50 punti è quella che divide crescita da rallentamento economico così come il Chicago PMI è uscito a 39 quindi i dati sono molto chiari i tassi di interesse persistenti tra il 5,5 e il 5,50% stanno evidentemente rallentando l'economia e di fatto dovranno anche peggiorare quelli che sono i rapporti degli utili aziendali trimestrali e questo non si vede perché le borse continuano a vaccinare sempre nuovi massimi ed è un paradosso se andiamo a vedere il rapporto tra capitalizzazione e PIL all'interno del mercato azionario americano notiamo che è sopravvalutato rispetto al rapporto di capitalizzazione PIL di tutti gli altri paesi del mondo questo significa che i grandi flussi di capitali vanno ancora verso gli Stati Uniti il fatto che vadano verso gli Stati Uniti dimostra che vanno soprattutto in un settore quello tecnologico che è forse la bolla speculativa più grande che abbiamo visto negli ultimi 20 anni ora bisognerà capire quello che succederà però intanto questa è la situazione sul fronte di un mercato valutario quello che possiamo vedere è che al di là di tutto il mercato resta in un trading range abbastanza chiaro l'euro dollaro rimane sostanzialmente in trarialzista avendo toccato 1,0890 ma non è riuscito a rompere al di sotto di 1,0830 non c'è mai andato per cui per il momento siamo all'interno di questo trading range molto stretto molto particolare e se vogliamo anche poco impulsivo dettato anche da dei movimenti sui cross che sono abbastanza interessanti il primo fra tutti è Euro sterlina Euro sterlina scende perché la sterlina dopo i dati usciti stamattina sull'inflazione più alta delle attese che costringerà la Bank of England ad aspettare almeno il mese di settembre prima di abbassare il costo del denaro almeno così dicono le statistiche ora anche se io credo che alla fine faranno due tagli lo stesso nel 1 a luglio e l'altro probabilmente a settembre 1 a giugno scusate l'altro a settembre in ogni caso la sterlina sta tirando e potrebbe attaccare 1,28, 1,28 e mezzo contro dollaro e quindi sul mercato dei cambi per il momento stiamo assistendo ad una fase comunque interlocutoria che si vede anche sul dollaro in Australia e New Zealand e poi magari ne parliamo nel dettaglio. Assolutamente andrei prima però se sei d'accordo in Asia per capire insieme come la situazione sia dello Yen che del Kwan, quindi Cina e Giappone. Ma guarda, la situazione dello Yen è sempre la solita, noi abbiamo visto che c'è un peggioramento della bilancia commerciale, stanotte è uscita negativa ma sappiamo bene che in questo momento la contrazione del PIL in Giappone è dovuto proprio al fatto che c'è stata una restrizione della domanda interna a favore di un dumping verso l'estero per cercare di aggiustare la bilancia commerciale, questo è stato fatto negli ultimi sei mesi e un anno da parte della Biogen senza grande successo, devo dire che si trova in una spirale abbastanza difficile perché la sostanza è che in questo momento ci sarebbe bisogno ancora di tenerno Yen svalutato per riprendere quote di mercato sull'estero perché la concorrenza cinese e la concorrenza coreana costringono e soprattutto il fatto che Cina e Corea tengono il cambio sottovalutato, costringono in Giappone a tenere un cambio sottovalutato anche lui per non perdere quote di mercato nei confronti dei partner asiatici, l'Asia è un grande mercato, molto più grande dell'Europa quindi è chiaro che il focus del Giappone è soprattutto sull'Asia più che sull'Europa, detto ciò o sugli Stati Uniti, detto ciò in questo momento avrebbero forse bisogno di rivalutare un po' il cambio per cercare di riapprezzare i salari che hanno perso molto potere d'acquisto e quindi è chiaro che il costo delle materie prime denominato in dollari con uno yen sottovalutato va a pesare enormemente sulle casse dello Stato e soprattutto sui consumi e questo è quello che sta succedendo, quindi l'area di 156,70,80 per il momento ha contenuto i rialzi, però se si rompesse quel livello si potrebbe andare su 158,10 che poi è il livello del secondo intervento, quello del primo maggio scorso, vedremo se arriveremo su quei livelli e per quel che riguarda Dollar China io credo che finché Giappone rimarrà con la valuta sottovaluta, anche la Cina sta facendo lo stesso gioco, che è un gioco di manipolazione del tasso di cambio che fa da anni, gli americani lo hanno denunciato più volte, tanto è vero che adesso Corea, Giappone e Stati Uniti hanno trovato un accordo per cercare di stabilizzare i tassi di cambio che esclude la Cina e questo da un certo punto di vista irrita ancora di più cinesi e il livello chiave del Dollar China è 7,28,48 che porterebbe, con la rottura a rialzo ovviamente, porterebbe il prezzinare a 7,37 che poi è il massimo storico, la parità dei poteri di acquisto se andiamo a vedere il fair value o il McDonald's parity è intorno a 5,5,5, quindi stiamo parlando di un cambio che è sottovalutato di un 40% almeno e questo chiaramente costringe poi il Giappone a dover tenere sottovalutato il tasso di cambio anche lui, quindi la situazione è da un certo punto di vista pericolosa e di avversione a rischio latente, che però sul mercato del forex occidentale, quello che tratta le medie o 6 euro, sterlina, dollaro e se vogliamo anche dei commodity cari sia Australia che nuova Zelanda non ne risentono più di tanto, forse Australia e nuova Zelanda un po' di più perché sono legate alla Cina in modo duplice e la Cina in questo periodo sta riprendendo a correre e questo aiuta Australia e nuova Zelanda ad essere il rialzo rispetto al dollaro americano. con i tassi di cambio euro Australia o nuova Zelanda che sono dei tipici riscambi risco risco che tendono a scendere leggermente, quindi situazione dire interlocutore sul mercato dei cambi, bisogna aspettare qualche trigger, cioè qualche innesco di qualche segnale che vada a sconvolgere questo mercato che rimane ancorato all'interno di barre di oscillazione molto piccole e la volatilità giornaliera di questi tassi di cambi è scesa drammaticamente negli ultimi due anni con l'oscillazione media giornaliera che oscillava intorno ai 100-120 pips al giorno, per un dollaro stelle a dollaro oggi siamo intorno ai 40-45 pips al giorno che dimostra che o c'è poco interesse o c'è grandissima liquidità, forse entrambe le cose. Ma Saverio c'è qualche trigger come l'hai chiamato tu programmato nelle prossime settimane che smuoverà un po' le cose o sono imprevisti? Ma guarda, noi dobbiamo osservare ancora l'inflazione negli Stati Uniti che è il punto chiave e chiaramente in queste settimane avremo quelli che sono i segnali più significativi, ma non dobbiamo dimenticare i dati sul mercato del lavoro che hanno cominciato a mostrare delle crepe vere, quindi quelli sono la chiave, se poi questa settimana a cominciare da domani l'ISM del settore manifatturiero americano e del settore dei servizi dovessero segnalare un rallentamento, beh potrebbe essere il momento in cui il dollaro perde valore e torna un po' di appetito a rischio, ma dobbiamo tener conto che i mercati tra di loro hanno perso le correlazioni a livello intermarket, noi abbiamo un mercato azionario che continua a salire e se ne frega assolutamente di quando vi dicono i banchieri centrali e quindi pensano che le aziende americane potranno fare profitti forever e questo non è possibile evidentemente. Sappiamo però che l'enorme liquidità che c'è sul mercato azionario americano è quello che rende di più a livello globale e che spinge gli investitori di tutto il mondo a investire sempre solo in quel mercato lì, è chiaro che fino a quando non avremo degli scossoni importanti con dichiarazioni magari spaventate da parte dei banchieri centrali della Fed, noi andremo avanti di questo passo e questo è un'assurdità perché c'è una bolla nel tecnologico che è abbastanza evidente, poi sappiamo tutti l'importanza dell'intelligenza artificiale nelle nuove tecnologie, questo è chiaro e non va sottovalutato, però non possiamo neanche pensare che le borse salgano in eterno e hanno bisogno di qualche correzione, vedremo se finalmente nei prossimi trimestrali avranno delle ripercussioni dovute a dei tassi che rimangono persistentemente alti, anche se qualche banchiere centrale si è azzardato a dire che siano tornati agli anni 90 quando l'inflazione, vi ricorderete, era vicino alle due cifre perché avevamo la crisi del petrolio negli anni prima e negli anni 70, poi negli anni 90 alle borre, la svalutazione della lira, la svalutazione della sterlina aveva creato grande tensione a livello globale, quindi qualche banchiere centrale ha azzardo a dire che torneremo in quegli anni e quei periodi, non lo so, questo lo vedremo, certamente è importante osservare i mercati giorno per giorno con i dati che sono la chiave per comprendere tutto, poi se i banchieri centrali non ascoltano i dati, questo noi non possiamo farci niente, però prima o poi dovranno ascoltarli per forza e il rischio è che arrivino troppo dietro la curva dei tassi e agiscano poi in ritardo. Perfetto, Saverio, prima di salutarci hai citato prima Nuova Zelanda e quindi andiamo a vedere in questi ultimi minuti che ci rimangono che cosa succede. Guarda, la Nuova Zelanda stranotte ha lasciato i tassi, l'Airbnb ha lasciato i tassi invariati, adesso aspettiamo le parole di Orla, conferenza stampa non è stata fatta, c'è uno statement che probabilmente parlerà stasera. È importante capire che ci sono dei livelli chiave di Nuova Zelanda dollaro, che se venissero violati al rialzo 63,5 del primo ed è il più importante e con conferma di 65, New Zealand nel medio termine potrebbe salire. Sappiamo che New Zealand è un paese molto piccolo, 4 milioni di abitanti, però ha probabilmente la più grande al mondo cooperativa su materie prime, quindi che si chiama Fonterra e partecipa al PIL della Nuova Zelanda per circa il 5-5,5%. Gli ultimi dati, il Global Diary, cioè dell'asta del latte in polvere, perché sostanzialmente esportano materie prime agricole, ha visto un aumento del 3%, quindi un aumento molto importante. Io penso che Nuova Zelanda sia una valuta che beneficerà del ritorno della Cina sui mercati, quindi il Nuova Zelanda dollaro me lo aspetta nel lungo periodo rialzista con degli obiettivi anche in area 0,70 e questo aiuterà tutti i carry trade, io per esempio più volte ho segnalato anche qui, senza voler sollecitare assolutamente alcun tipo di operazione speculativa, che comunque c'è un bellissimo carry trade sul tasso del mercato dei cambi che secondo me aveva osservato che è New Zealand contro Franco Svizzero. Un Franco Svizzero che in condizioni di risk off si indebolisce potrebbe dare fiato a un movimento di Nuova Zelanda contro Franco Svizzero verso addirittura 0,60-0,62. Io continuo a tenere questa posizione perché è una posizione che offre un carry trade interessante, tenete presente che Franco Svizzero ha i tassi all'1,5% mentre il Nuova Zelanda ha i tassi al 5,5%, stiamo parlando di un 4% del delta tasso che comprando un'obbligazione si incassa tutto perché è un'obbligazione interessante, tra l'altro il prezzo era anche vicino ai minimi storici, quindi tutto sommato credo che un rendimento importante, un extra rendimento possa essere dato da un carry trade. I carry trade sul mercato dei cambi sono tornati, erano spariti perché i tassi erano tutti a zero, finalmente sono tornati e finalmente sono tornati ad essere un asset di investimento estremamente significativo e io da questo punto di vista vi suggerisco almeno di guardarli perché possono offrire dei rendimenti interessanti. Perfetto, Saverio, io ti ringrazio moltissimo come sempre per la tua analisi, ti auguro una buona giornata, un buon lavoro e spero di riaverti qua prestissimo. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro a tutti voi. Grazie ancora. Grazie a tutti.